poi aspetta il casco con la tele per metterla telecamera per andare col monopattino la stampante 3d no non c'è casino qua dentro ma va questa è una figata fa la luce potentissima a volte la uso per fare i video notturni portatile batteria guarda che burdello metà detector guarda che casino mio papà è burdello no no ma va ma dove ma dove lo vedi il burdello no non c'è burdello ma va qua c'è dentro tutta la roba che vendo su ebay dei pezzi delle moto il drone